La grande via è NaturaSì, è nata questa splendida collaborazione. La grande via è un'associazione che vuole diffondere la consapevolezza di quello che ci può mantenere in salute e la grande via per la longevità in salute, la via del cibo, la via del movimento e la via spirituale. E NaturaSì è il posto dove andare a fare la spesa. La grande via ha inventato questo termine di cucina macro mediterranea. Cosa vuol dire? Vuol dire che uniamo due grandi saggezze tradizionali, la saggezza della cucina mediterranea, i nostri meravigliosi piatti della cucina povera mediterranea, la pasta e i fagioli, tutto questa invenzione veramente meravigliosa delle nostre nonne, delle nostre bisnonne, che con dei cibi molto semplici e poco cari facevano della cucina meravigliosa. E la saggezza della cucina orientale e della filosofia orientale, la filosofia dell'energia dei cibi, perché c'è una ricchezza in questi cibi semplici, tanto vale approfittarne. Per questo con NaturaSì stiamo concordando nuove proposte, nuove si fa per dire perché non c'è niente di veramente nuovo, a base di cereali integrali, di legumi, di verdure, di frutta, di noci, nacciole, mandorle. Quello che l'uomo ha sempre mangiato è la varietà del cibo naturale che è importante, la varietà della frutta, della verdura, la freschezza della frutta, della verdura, la stagionalità della frutta, della verdura. E quindi continueremo questa collaborazione inventando nuove proposte di cibo semplice. Mangiamo i cibi elementari, i cibi naturali, torniamo in cucina a cucinare i nostri cibi. Grazie a tutti.